buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa 23 di ottobre alle viste una settimana di piogge il cambio dell'ora inizio settimana prossima halloween con richiesta anche di capire se sarà un halloween bagnato o un halloween fortunato l'appuntamento con il meteo per halloween è un po acerbo un po presto però possiamo dirvi intanto che sabato e domenica rispetto alle piogge dei prossimi giorni a partire da oggi sabato e domenica dovrebbero essere un po più asciutte rispetto invece a quell'aria strana un po tiepidina che sentite in queste ore in questi giorni ecco da domenica 27 di ottobre le temperature massime che perderanno 6 7 gradi e si allineeranno alle minime porteranno temperature più consone al periodo la rassegna di buongiorno e tv è fatta da voi lo sapete siete voi l'ingrediente importante allora riparto dai vostri messaggi poi cominciamo a sfogliare i giornali abbiamo le edizioni provincia per provincia e del carlino e del corriere grazie anche per i bentornato ma insomma grazie ancora chi ha notato ma sono due giorni abbiamo vissuto una due giorni importante ad ascoli con le telecamere di etv ringrazio simone zezza ringrazio la will il collega marco catalani che ci ha aiutato in questo due giorni in piazza per parlare di giovani di precari di purtroppo caporalato temi tosti e torniamo ora alle normali programmazioni silvana buongiorno ziatati buongiorno marta bugari che interviene invece su un tema che abbiamo già trovato sulla carta stampata che recupererò sono felice che il ministro voglia incontrare la famiglia di leonardo perché venga fatta luce su questo fatto e molti altri e fermare il bullismo laddove chi di dovere sembra non intervenire grazie marta per questa tua riflessione che mi porta ad andare velocemente subito verso i giornali locali cosa racconta il corriere sulla vicenda della storia di senigallia del ragazzo che purtroppo si è tolto la vita perché preso di mira senza soluzione di continuità nonostante lui con coraggio avesse affrontato i bulli nonostante ne avesse parlato in famiglia a casa a scuola con gli amici insomma non c'è stato verso ecco leo la notizia di oggi è questa dovevo urlare di più per proteggerti dai bulli è la lettera di una compagna di classe della quindicenne suicida in classe ho provato racconta in questa lettera a difenderlo dalle vocine una lettera scritta con il cuore che oggi trovate in edicola già che sono al corriere edizione per ancona e provincia ci do un'occhiata per completarlo rapidamente parliamo di ex stracca di quella che rischia di diventare da zona extra lusso a incompiuta famiglie disperate cantiere stop addio alle case luxury emergenza sociale anche per il degrado che ne nascerebbe ammette il sindaco violoni del lance attacca resterà così un incompiuta per vent'anni nel cuore della città in via curtatone invasione di clochar perché che è successo non viene prorogato il super bonus l'imprenditore che stava gestendo il cantiere dice non è più economicamente sostenibile l'opera e adesso punto di domanda intanto cronaca taglio centrale writer assolto grazie al fatto di avere un gemello è stato ripreso nella ride sul bus ma un fratello sosia e quindi anche se questa notizia vi ha fatto un po arrabbiare siccome non è sicuro che sia lui il colpevole non c'è c'è il dubbio legittimo che non sia identificabile grazie alla webcam il colpevole se la cava la fa franca punto di domanda ammesso non concesso che fosse lui vado ora alla storia di una donna in ostaggio di video hot l'amante e il fidanzato finiscono nei guai donna che pare sia stata ricattata da questi due soggetti dall'anconetano vi porto alla zona di ascoli e san benedetto ma non prima di essere ripassato da voi buongiorno maurizio per l'antenna sono d'accordo però andrebbe fatta verde e con rami sintetici ci sono zone in cui le mimetizzano da noi sono polemiche ma dall'aeroporto di falconara un saluto un abbraccio a chi opera o vive nei pressi dell'aeroporto di falconara parleremo venerdì anche dell'aeroporto che quest'anno ha numeri record superato il mezzo milione di passeggeri quando qualche anno fa si faceva fatica a raggiungere le 300 mila persone l'obiettivo è superare i 600 mila un abbraccio alla zona dell'aeroporto di falconara l'intervento è riferito all'antenna che vi ho anche mostrato perché ci sono delle immagini dei rendering di come potrebbe diventare la super antenna come l'hanno chiamata eccola ecco come sarebbe l'antenna a porto nuovo scatta la raccolta firme non installatela certo se fosse così un pugno nell'occhio 36 metri zona del conero ecco dice il nostro utente se la mimetizzano se la fanno di un certo colore e ci mettono dei rami finti magari va meglio si integra meglio nel panorama a proposito di falconara da dove ci scrive il nostro amico si parla di centro per migranti con saltamartini che gela la signorini il cpr centro di permanenza e rimpatrio non possiamo opporci lo abbiamo sentito poco fa intervenire l'assessore saltamartini è un provvedimento che ci chiede il governo dobbiamo obbedire la regione non ha margine sul tema della sicurezza la sicurezza del paese è afferita allo stato la sanità per esempio come sappiamo è stata demandata in gran parte non in tutto alle regioni buongiorno umido da castelfidardo tra poco andiamo ad ascoli e con i giornali come avevo promesso prova a scaricare nel frattempo ci meritava ci ha voluto un pochettino per scaricarla ma questa foto poi vale la pena assolutamente mostrarla un abbraccio a chi ci segue da castelfidardo con questo scorcio questo scenario mi pare di capire che per il momento non stia piovendo la pioggia dovrebbe arrivare soprattutto nel pomeriggio un altro omittente un altro scorcio e curiosamente sempre castelfidardo è l'amico daniele da quelle parti ci seguite in tanti non fosse altro anche per il fatto che la nostra coordinatrice linda cittadini è proprio originaria di quelle parti guardate che bella bellissima non bella non basta bellissima immagine serve un superlativo per questo scatto fotografico che ci arriva da daniele io me lo godo ancora un po voglio immaginare che nelle vostre sale nelle vostre cucine in questo momento ci sia come un quadro che parla di bellezza e parla di marche poi purtroppo il quadro si rovina perché torniamo noi con anche i giornali eccolo ascoli e san benedetto i motivi del crollo si parla di sport e noi abbiamo parlato del crollo invece demografico grazie alla will e ieri ieri l'altro lo speciale andrà in onda oggi in piazza davanti a tante professioniste ma anche a tanti ragazzi e delle scuole qui si parla invece di sport in tre anni dai playoff con il sogno serie a alla zona retrocessione in serie g che è successo punto di domanda uno spreco l'impianto di risalita a monte piselli questo l'attacco duro del cai se ne parla da anni vi avevo mostrato anche nei mesi scorsi questi rendere in questi progetti che dovrebbero rilanciare l'impianto di risalita rifarlo ex novo secondo il cai non serve a nulla entrano in funzione invece i cassonetti intelligenti in centro storico e qui vale la pena passare all'edizione online perché ve li ho mostrati eccolo questi cassonetti intelligenti molto particolari c'è anche chi ci scrive che non si integrano con il centro storico di ascoli che invece è fatto di bellezza allora tanti cassonetto come sono adesso molti anche peggio non saranno bellissimi non è che è difficile rendere un cassonetto bellissimo però questo è il cassonetto intelligente la cosa che conta è che se fai bene dico all'amico di ascoli la raccolta differenziata paghi meno tari più differenzi meno costa la tari come si apriranno con un sistema di badge di hub di scheda mi ci segnalavano da castella raimondo che a castella raimondo già è in atto questa rivoluzione san benedetto invece così completiamo la veloce occhiata sulla scolano riduzione dei ricoveri in ospedali e cliniche ridurre il numero dei ricoveri alleggerendo il carico negli ospedali cliniche d'rsa oltre a sostenere le famiglie obiettivi che intende perseguire il progetto di missioni protette partito lo scorso 30 di settembre l'obiettivo è quello di cercare di ricoverare di meno sfruttando anche la medicina del territorio e anche di questo parleremo venerdì sera alle 23 a punti di vista sarà nostro ospite ma ce l'avete chiesto voi è giustamente il presidente della regione francesco acquaroli teatro un record tira l'altro è invece il titolo dell'edizione del fermano del corriere dove andrò tra un secondo perché prima rigodendoci ancora lo scorso da castelfidardo se penso alla foto che ci avete mandato da fabriano dove non si vedeva nulla direi che castelfidardo muntobè muntobè anche se è un termine pesarese sapori d'auturno 25 26 27 ottobre a montefano terra dell'armonia grazie per questa segnalazione poco fa abbiamo ricevuto la segnalazione da monte urano è l'iniziativa dal 26 fino ad halloween una settimana manco fosse sanremo di eventi qui montefano invece da monte urano a montefano sapori d'autunno 25 26 27 di ottobre degustazioni racconti e sapori con stand gastronomici al coperto sottolinea la locandina buongiorno da montefano sì con questi chiari di luna buongiorno anche da sforza costa macerata adesso 17 gradi un abbraccio dalle finestre verso sforza costa de macerada anni universitari mi hanno lasciato un po traccia teatro un record tira l'altro eccolo il giornale del fermano arriveremo a macerata boom degli abbonamenti la stagione spinge il centro sostegno anche dal turismo la benna la ruspa la polvere sì l'abbattimento ma con vista verso il futuro parliamo a sant'elpidio a mare amiche amici di quelle parti della nuova scuola bacci che partirà dopo la demolizione che è scattata proprio ieri ecco la foto storica per certi aspetti è arrivato anche qualche messaggio di chi quella scuola bacci l'ha frequentato un po di dolore c'è capisco insomma perché lì ci sono tanti tanti ricordi la rapina invece in farmacia il l'obiettivo comprare droga concluse le indagini sul raid a sant'ommaso blitz dell'arma giovane muratore finisce in carcere questo per il fermano pronta l'edizione del maceratese con il corriere poi andremo a sbirciare anche quello che racconta il carlino prima però passo di nuovo da voi da silvana da anella otello cobai fior del mondo da ziatati da marta bugari che rifletteva con noi sul tema di leo sul fatto che il ministro voglia incontrare la famiglia di leonardo io già ho anticipato che oggi trovate sui giornali la lettera di una compagna di classe che dice scusami se non ho gridato abbastanza forte per proteggerti tosta la faccenda è svolta high tech per i rifiuti anche a macerata poco fa vi ho mostrato i cassonetti intelligenti ad ascoli a macerata situazione simile cassonetti smart cioè intelligenti e app cioè applicazioni il comune attende l'ok dell'ata per attivare questi cassonetti specialoni a corneto in taglio centrale eccolo qua il piccolo terremoto se vogliamo allo sferisterio via gavazzeni e cavalli contratti non rinnovati evidentemente la gestione non è piaciuta o comunque non ha portato ai risultati auspicati tolentino travolta da un'auto in contrada ributino muore sul colpo dolorosa vicenda di cronaca che si è verificata ieri sera e poi i vandali alla scuola devastata siamo a matelica denunciati 21 minorenni baby gang nel quartiere san rocco infissi divelti bagni distrutti muri imbrattati una baby gang ha devastato il plesso di san rocco dell'istituto comprensivo mattei pure qui mi sono fatto aiutare da una foto molto eloquente purtroppo che racconta anche del gesto sprezzante di chi spacca sfascia distrugge le cose pubbliche e quindi una foto di una carabiniere che fa verifiche sul posto e c'è una scritta baby gang con un dito medio messo lì dai presunti delinquenti insomma una roba molto molto brutta ve la faccio vedere questa foto perché dà il senso di come oggi purtroppo abbiamo lasciato i giovani tanto che si permettono di fare queste cose baby gang eccolo lì il dito medio e l'arma dei carabinieri pronta a intervenire baby gang che devasta la scuola di matelica qualche immagine ve la mostriamo nei guai 21 minorenni speriamo che se le responsabilità fossero acclarate speriamo che prendano una severa lezione perché quando si sbaglia è giusto che si paghi in maniera commisurata a seconda dell'età ma che si paghi buongiorno da marisa che ci segue dalla zona di san claudio immagino san claudio di macerata se sbaglio correggimi pure da oggi fino a domenica pesante maltempo su emilia romagna liguria e piemonte ma qualcosa anche da noi nelle marche purtroppo sì te lo confermo e la cosa rende tutto più doloroso perché pensare a quello che già hanno subito le amiche e gli amici dell'emilia romagna parlo di due anni fa ma parlo anche dei giorni scorsi ancora maltempo in emilia eccola là torna la pioggia pesante maltempo anche a napoli un fiume nel napoletano un fiume d'acqua che travolge ischia il video del l'ubifragio ci è arrivato anche un messaggio di chi diceva che doveva poi settimana prossima andare in vacanza ad ischia sfruttando le belle temperature insomma non lo so se riesci a sprenotare forse è il caso maltempo anche in sicilia l'autostrada a 18 messina catania diventa una cascata questo per dar ragione insomma a chi ci scriveva poc'anzi con preoccupazione anche empatia empatia significa provare sentimenti che convergano su chi abbiamo di fronte cioè riuscire a sentire quello che sente l'altro e quindi empatizzare in tal senso con le popolazioni dell'emilia romagna mi sembra giusto e doveroso dal maceratese al pesarese poi le edizioni del carlino centro blindato dalle spy cam arrivano otto nuovi varchi che daranno accesso al centro storico abbiamo mostrato anche la mappa lo farò più avanti quali sono questi otto punti punto di domanda e poi la vicenda di anastasia ergastola al marito che per due volte rischia di perdere i sensi dopo aver sentito che per lui c'è la condanna massima dopo la morte di questa giovane donna con occhi pieni di speranza scappava dall'ucraina dalla guerra in ucraina ha trovato la morte qua nelle nostre marche sentiamo però il servizio è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario mustafa alashri il 43enne di nazionalità egiziana che il 13 novembre 2022 uccise la moglie 23enne anastasia con 29 coltellate il delitto nell'appartamento di fano in via trieste dove i due avevano trovato casa dopo essere scappati dalla guerra in ucraina lei in realtà da quella casa se n'era andata già da un po di tempo a causa dei maltrattamenti di lui quel 29 novembre però anastasia era tornata per alcuni minuti per prendere dei vestiti da quell'appartamento purtroppo non è più uscita la sentenza di condanna da parte dei giudici della corte d'assise di pesaro è arrivata nel pomeriggio dopo cinque ore di camera di consiglio i giudici hanno riconosciuto nei confronti del 43enne egiziano anche le aggravanti di aver commesso il fatto nel contesto dei maltrattamenti e del rapporto coniugale alashri è stato condannato anche per occultamento di cadavere e per non aver addempiuto all'obbligo di mantenimento insieme alla condanna all'uomo è stata tolta anche la potestà genitoriale nei confronti del figlio suo e della povera anastasia che ora vive con i nonni in ucraina al bimbo che all'epoca del delitto aveva appena due anni è stato assegnato un risarcimento di 300 mila euro alla lettura della sentenza alashri ha avuto un crollo fisico e si è accasciato a terra prima di essere portato via dalla polizia penitenziaria il risarcimento non ci soddisfa ma la sentenza è giusta non possiamo comunque dirci felici perché questo non restituirà la sua mamma a un figlio che l'ha persa per sempre ha detto all'uscita dal tribunale l'avvocato roberta giuliacci legale del bambino l'avvocato simone ciro giordano legale di alashri ha invece annunciato il ricorso in appello verso la sentenza di condanna c'è chi ha criticato questo il servizio della collega laura meta c'è chi ha criticato il fatto che farà ricorso in appello l'avvocato ma insomma è così che funziona il diritto alla difesa addio alla parola torno da voi un attimino alla parola divertimento è inutile divertirsi al giorno d'oggi se siamo giunti al 2024 con la presenza delle forze dell'ordine negli obiettivi sensibili discoteche locali notturni non comprendo il senso del messaggio forse fra intendo cioè vuoi dire che non ci si può divertire se fuori dalla discoteca c'è una pattuglia perché ha intendimento di divertimento che significa violare la legge se non viola la legge la pattuglia è una sicurezza in più e anzi io direi grazie a chi sta fuori dalle discoteche a prendere il freddo in divisa ad aspettare con paghe che non sono degne di quello che meriterebbero le nostre forze di polizia carabiniera e guardia di finanza mentre sono lì fuori a prendere il freddo per permetterci di divertirci senza rischi se per voi o per chi ha scritto il messaggio divertimento significa violare la legge e allora non ci siamo non sono per niente d'accordo accendere la tv alle 6 45 vedere il nostro maurian sicuro buongiorno da alessia e femmini grazie alessia un abbraccio a te alle gemelline ormai non più tanto in e meravigliose gemelle ma ripeto erano due giorni importanti per parlare di proprio di giovani visto che hai delle creature meravigliose alessia per parlare di precariato di caporalato degli invisibili dei ragazzi che non riescono a farsi un futuro qualcosa non va nel sistema occupazionale italiano e per due giorni abbiamo cercato di affrontare gli argomenti grazie alla will marche buongiorno da saverio saverio ma il buongiorno davvero ce lo dai tu senza bisogno quasi di parole bellissima questa immagine che racconta le marche è una summa delle marche i tetti e le i coppi e i famosi pistacoppi e poi il sole all'orizzonte tra una collina e l'altra mi manca un po di nazionale e poi del carlino le edizioni del carlino riparto dal nazionale perché oggi sul corriere della sera si parla di manovra bonus stipendi questa parola che piace e non piace bonus fino a 40 mila euro bonus e le pensioni minime salgono dice il corriere tra virgolette insomma non è che sia un grande aumento a 621 euro il testo della legge di bilancio inviato per la firma al Quirinale sarà oggi in Parlamento perché non ci dimentichiamo che sarà necessario il passaggio parlamentare le pensioni minime e quindi saliranno di 16 euro un salvagente per chi non ha abbastanza contributi ma 16 euro al mese in più ditemi voi 349 39 18 69 vado ora ai giornali questa volta le edizioni del carlino e riparto da quella dell'ascolano a proposito di ascoli ne parlavo poco fa con la foto news di questo cacciatore di comete o così magari raccontiamo anche qualcosa di spendibile per i giovani è una mestiere intrigante nuovo proprio in questa due giorni con la Wilmar che parlavamo in piazza anche delle nuove professioni e di come il sindacato deve essere capace di sintonizzarsi con le nuove professioni per poterle tutelare nei temi della bilateralismo vado a caccia di comete lo avevate mai sentito parla i giovani soprattutto di un cacciatore di comete parla il fotografo cursi ore ore di appostamento per immortalare la natura alla faccia di una intelligenza artificiale invece che in pochi minuti potrebbe riprodurre ma un conto è appunto la finzione un conto è la verità rua delle stelle la denuncia lavori inaccettabili hanno coperto il travertino la segnalazione eccola qua così è stata sistemata la rua delle stelle ma la toppa come spesso capita è peggio del buco morta al mazzoni l'asur deve pagare un milione di euro presunto caso di mala sanità e parleremo di sanità promesso venerdì sera a punti di vista l'asur deve pagare un milione maxi risarcimento per la donna di 56 anni decedute in ospedale pensate nel 2013 dal 2013 la famiglia aspettava risposte aspettava giustizia e arriverà una milione di euro di risarcimento abbiamo nel frattempo già preparata l'edizione del carlino per il fermano costretta a prostituirsi tre le condanne nove anni di pena agli aguzzini e la ragazza era stata salvata a monte granaro grazie a un blitz dei carabinieri in taglio alto della valle e i piani per il futuro non escludo il ritorno in borsa il gruppo è uscito dalla borsa fiducia nella ripresa della cina e poi la biblioteca che inaugura le sale studio gli spazi sotto l'arco dell'orologio tornano fruibili dopo anni di chiusura intanto a santo il più di ammare purtroppo aggiungo io ancora chiuso il ponte sul lette morto ritardi e accuse vado velocemente all'edizione dopo la scolano il fermano dell'anconetano un museo diffuso per trubiani questa la proposta il sindaco ha incontrato il sindaco silvetti ha incontrato il figlio del grande artista per valorizzare le sue opere risse sicurezza sempre dall'anconetano stretta sugli alcolici silvetti a colloquio col questore sul tema i 79 anni dell'ex sindaco galeazzi la politica oggi non esiste più queste le sue parole il degrado regna in tutta la città e poi la storia di leo una compagna scrive alla famiglia anche io bullizzata volevo difenderlo scusa se non ho gridato abbastanza questa una frase che ci portiamo dentro in questa giornata di rassegna stampa una ragazza di 15 anni che chiede scusa alla famiglia del compagno di classe per non essere riuscita a difenderlo rapina due donne in 24 ore viene espulso un tunisino nella rete di polizia e carabinieri in un caso aveva anche esploso un colpo di pistola in aria grazie agli accordi bilaterali con la tunisia è tornato appunto in patria rivoluzione allo sferisterio sauber e sauber specialista nell'igiene professionale cura la pulizia e la sanificazione di tutti i tipi di ambiente sia pubblici che privati sanificazioni derattizzazioni disinfestazioni e gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi